arriva a 4 minuti di schiacciare qua ho schiacciato ammortico sono dritto si guarda io guarda io guarda io però non arriverà a più di 4 minuti no questi qua eh Gaeta appena entri a destra qua all'angolo c'è un paio di scarpe chiodali prendeli eh 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 Grazie. Ok, quando la chiamo è mia eh? Non ci siamo, ci sono. Nesta. Dai, dai, guardate un po', eh! Dai, dai, stringi un bel! Dai, 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 calma, sei solo, gira! No, arriva. Sì. Girolo, giralo, giralo. Anche lò. Buona. No, no, non dai, troppo, la sanna. Ancora un minuto. Buona, mamma. Buona, mamma. Buona, mamma. Buona mamma. Buona mamma. Buona mamma. Buona mamma. ma si qui non è che usavo è appareggiato cosa gioca? ahi la voce è sciucata ah si buona buona stiamo dalla i ubbè dalla prima la donna mia basta e ma non grida guarda dietro guarda dietro guarda dietro guarda dietro guarda dietro the Allarga Piro, allarga, bravo Tony Grazie